Guardate l'incività dei romani, siamo dei porci, siamo dei porcelli, guardate i cassonetti che sono vuoti, anche questo è vuoto completamente e questo è quello che c'è intorno, siamo a testaccio, posto assolutamente centrale, centralissimo, guardate la gente che butta le cose, guardate, una cosa indicibile, indicibile. Non ci vediamo, sennò, con una mano sola.